Presidente, questa scuola novera tra gli studenti un'eccellenza, tante eccellenze, però ecco nel concorso Ippo Competition c'è stata un'allieva che si è ben piazzata e ben figurato all'Ippo Competition. Sì, quest'anno dobbiamo dire che per noi è il secondo o il terzo anno che partecipiamo a questa competizione internazionale d'inglese e abbiamo avuto l'onore di far partecipare addirittura una delle nostre alunne alla finale di Jesolo. E' stata Lice Fiorello che ha superato tutte le selezioni a livello di semifinale regionale e su 49 dei nostri studenti che inizialmente avevano partecipato lei è stata quella che ha potuto partecipare alla finale internazionale di Jesolo. E' una grande soddisfazione perché significa che l'acquisizione delle competenze nel campo linguistico e segnatamente nella lingua inglese sono state raggiunte da tanti ragazzi ma in particolare da Lice che pur non essendo risultata vincitrice alla competizione internazionale ha comunque acquisito la certificazione a livello B1. Volevo precisare che partecipano stati di tutto il mondo dal Mongolia o comunque paesi africani, paesi dell'Asia, insomma un po' di tutto il mondo e devo dire che è stato un momento di grande aggregazione e soprattutto di seria competizione tra i ragazzi. Eccola qui Alice, insomma torni con questo bagaglio di esperienza forte naturalmente, che esperienza è stata per te? E' stato bellissimo anche perché poi ho conosciuto anche ragazzi, me coetane comunque di altre nazionalità. E' bello comunque scambiarsi idee, vedere che comunque abbiamo tutti una cosa in comune poi a un certo punto che sono... Per la lingua inglese ci vuole una particolare predisposizione o basta sempre semplicemente un po' di buona volontà? Allora la buona volontà ci vuole sempre e comunque secondo me ma almeno io da sempre mi sono sempre sentita come portata per l'inglese, mi è sempre piaciuto anche parlarlo. Hai anche acquisito una certificazione che ti servirà nella vita ma il tuo sogno da grande qual è? A me piacerebbe tantissimo fare la professoressa proprio di lingue, di inglese sarebbe perfetto. Poi non lo so... Si vedrà. Si vedrà, ecco.